Dopo l'approvazione dello scorso anno da parte del comune di Monopoli di ripristinare l'antica chiesa rupestre dello Spirito Santo grazie ai 10.000 euro stanziati per l'operazione, la cripta sta tornando al suo antico splendore. La chiesa risalente al X secolo è completamente scavata nella roccia. In seguito a donazione nell'aprile 2009 è stata acquisita al patrimonio comunale. Un sodalizio tra il comune, la fondazione San Domenico e la fondazione Cassa di Risparmio di Puglia ne ha permesso il restauro. Una delle chiese rupesti più affascinanti di Monopoli anche perché presenta al suo interno una serie di colonne con capitelli che non è facile trovare nella zona. Sicuramente questo fa pensare al fatto che chi ha realizzato questa chiesa guardava ad un modello vicino, probabilmente un modello romanico e non escluso che potesse essere la cattedrale romanica di Monopoli. Ha acquisito col tempo un indubbio fascino anche perché poi essendo collocata in una zona un po' particolare alle spalle del cimitero non ha fatto altro che alimentare anche una sorta di interesse anche di carattere legato al culto dei morti e anche perché qui troviamo un affresco delle anime purganti sicuramente successiva alla realizzazione originaria della chiesa. Però è sicuramente una chiesa che bisogna tenere in debita considerazione anche dal punto di vista della valorizzazione del nostro territorio. La somma stanziata serve per ripristinare i luoghi e per sovvenzionare la gestione della struttura e dell'area da affidare a soggetti specializzati per cinque anni. Un grande risultato che apre la strada agli investimenti nelle strutture storiche locali è un incentivo al recupero della storia e delle nostre tradizioni, spesso dimenticate dalle istituzioni del territorio e dai residenti ma molto apprezzate dai forestieri e dagli stranieri.